Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale, siamo entusiasti di condividere con voi le immagini e video dell'evento Plum con particolare attenzione all'elegante partecipazione di Antonella Ferdelisi che ha rubato la scena con uno stile che ha fatto parlare tutti. Prima di iniziare, cliccate sul pulsante iscriviti per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie di Gossip. Iniziamo parlando del suo look mozzafiato, una tuta jumpsuit di veluto rosso che ha fatto girare la testa e ha reso Antonella il punto focale dell'evento, almeno per i suoi fan, ma non solo. Dopo l'evento, Antonella ha condiviso con noi il momento dell'apertura di uno dei tanti regali ricevuti dai suoi affezionati fan. Un giubbino di marca di tendenza che ha reso il suo entusiasmo contagioso. Antonella ha poi promesso di svelare gradualmente tutti i regali, aggiungendo un tocco di mistero e anticipazione al tutto. La nostra annellina attualmente si trova nella sua città natale di Salerno, per godersi il periodo natalizio insieme alla sua famiglia. Ha svelato ai fan di avere un sacco di capi di abbigliamento nel suo armadio a Salerno, ma che purtroppo non riesce a portare a Milano, poiché la sua cabina armadio è già piena. Ora è il vostro momento, lasciateci nei commenti cosa ne pensate di questo video su Antonella e cosa vi ha colpito di più. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e mettete un bel like. Grazie mille per essere con noi sempre. Ci vediamo al prossimo video con nuove notizie da condividere. Vestita come l'oltre